Andiamo a Gwazami! Andiamo a Gwazami! Grossa tigre, come prendere a schiaffi un curo di mattoni! Goku! Goku il credibile solleva per qualche secondo, grossa tigre, poi non riesce, lancio all'angolo, lani swing, abbracca l'avversario! World's strongest slime in arrivo, connessa! E per Goku è notte fonda, è semplicemente una formalità, grossa tigre, abbracca per il collo l'avversario, è pronta a lanciarle, invece l'appoggia all'angolo qui, prima shot! Attenzione, perché abbiamo l'ora! Signore, la vostra l'ora! Questo pubblico sta utilizzando letteralmente l'ara croft, non riesce a fare tutto sul ring, prova a premere R1, quello R2, R1, niente! Allora, segui il tutorial, prima di iniziare, mette l'azione a 100 ring, si fa sempre più dinamica, sempre più veloce! Signore, signore, signore!